La Sigeco Basket sta scaldando i motori in vista dell'inizio del campionato di Serie 2, che sarà domenica alle ore 18 al Palabanca contro Udine. Un primo impegno stagionale difficile per la squadra reddicoce Stefano Saglieri, che si aspetta l'aiuto del pubblico finalmente sugli spalti dopo tanto tempo. Udine è per noi un inizio probante, però al tempo stesso è molto stimolante per una squadra giovane, come abbiamo fatto. Una squadra che viene da un precampionato duro, però che ci ha visto crescere in ogni momento e soprattutto ci ha visto formare uno zoccolo duro di italiani, importante, giovane e di grande prospettiva, come nelle intenzioni e nella politica della società. Adesso sta a noi, soprattutto la nota positiva, il ritorno del pubblico quest'anno e speriamo domenica di avere una risposta importante dai nostri tifosi. Grazie. 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 Grazie.